Ciao Sofia, non ho capito cosa hai detto. Ciao, mi interessa sapere qual è la tua situazione attuale nel business e quali sfide o obiettivi specifici vorresti affrontare oggi. Mi occupo di intelligenza artificiale generativa e tecnologie immersive. In particolare vorrei capire quali sono, secondo te, le implicazioni etiche dell'utilizzo di intelligenza artificiale generativa per la generazione automatica di sceneggiature e contenuti audiovisivi. Ottimo argomento. Le implicazioni etiche includono la proprietà intellettuale, l'autenticità dei contenuti e la potenziale disinformazione. È fondamentale stabilire linee guida chiare per garantire un uso responsabile. Vuoi esplorare strategie per affrontare queste preoccupazioni? Lasciamole per un secondo incontro. Vorrei capire come si potrebbero integrare in modo molto efficace un sistema di intelligenza artificiale generativo nel processo creativo di preproduzione cinematografica. Certo, integrare l'IA generativa nella preproduzione può migliorare brainstorming, generazione di sceneggiature e creazione di storyboards. Puoi iniziare definendo obiettivi chiari per l'IA nel tuo processo creativo. Ti interessa approfondire qualche aspetto specifico? In particolare mi interessa capire come la realtà aumentata potrebbe modificare l'esperienza di visione domestica dei contenuti televisivi. La realtà aumentata potrebbe arricchire l'esperienza di visione aggiungendo elementi interattivi e informazioni in tempo reale e coinvolgendo il pubblico in modi nuovi. Potresti considerare come integrare queste caratteristiche nei tuoi contenuti? Vuoi discutere qualche idea specifica? No, riguardo a questo tema vorrei capire quali possono essere le potenziali applicazioni della realtà virtuale, in questo caso, nella formazione tecnica degli operatori del settore cinematografico. La realtà virtuale può simulare set cinematografici offrendo formazione pratica e interattiva agli operatori. Inoltre può fornire scenari di lavoro realistici per migliorare le competenze. Vuoi esplorare come implementare queste applicazioni? Per esempio vorrei capire quale ruolo potrebbero svolgere gli avatar virtuali interattivi come se tu nell'intermediazione tra spettatori e contenuto audiovisivo. Gli avatar virtuali interattivi possono fungere da guide fornendo informazioni contestuali e interazioni personalizzate. Possono anche facilitare discussioni o approfondimenti creando un legame più forte tra spettatore e contenuto. Ti piacerebbe approfondire come sviluppare questa idea? Mi piacerebbe capire più che altro quale può essere il percorso formativo riguardo queste tecnologie quindi intelligenza artificiale in connubio con la realtà mentale e la realtà virtuale. Un buon percorso formativo potrebbe includere corsi su IEA o workshop di ARVR e progetti pratici. Potresti anche considerare collaborazioni con esperti del settore per offrire esperienze immersive. Vuoi discutere qualche risorsa o programma specifico? No, direi che più che sufficiente chiuderei questa nostra conversazione invitandoti a dare un saluto di incoraggiamento ai miei studenti per l'avvio di questi percorsi formativi altamente specializzati. Certo, un grande incoraggiamento ai tuoi studenti siete sul punto di esplorare tecnologie innovative che plasmeranno il futuro del settore. Abbracciate queste opportunità e continuate a imparare buona fortuna. Grazie, un saluto e a presto. Grazie a te, un saluto e a presto. In bocca al lupo per i tuoi progetti.